Il Catania spera di affiancarsi al Genova nella promozione in Serie A. Battendo il Marzotto salirebbe a 41 punti, mentre il Legnano se pareggiasse col Brescia si fermerebbe a 40. Prima che l'allenatore Baldi accetta la sigaretta, la strada della vittoria è già aperta. Gol! È Micheloni a far saltare di gioia i tifosi e sarà ancora lui a segnare nella ripresa il terzo gol. Peraltro non più necessario dopo questo rigore realizzato da Klein a 5 minuti dal riposo. Alla fine Micheloni è tutto in sorriso. Michi Santi commissario del Catania è portato in trionfo e così l'allenatore. Allo spareggio con Legnano vincitore del Brescia si penserà dopo. Adesso gioia per tutti!